Musica Nella puntata del 10 novembre, nel corso dell'intervista a Christian De Sica, la conduttrice si racconta senza peli sulla lingua, si torna al passato, all'epoca in cui faceva la stracciarola Di che si tratta? Presto detto, tempo fa la Venera aveva aperto un negozio di abiti usati a Campo dei Fiori, a Roma In un'intervista disse che quell'impiego mi diede molte soddisfazioni Impiego da stracciarola, appunto, soddisfazioni che Ziamara non ha dimenticato e anzi conferma Domenica In Sono orgogliosamente stracciarola, afferma senza indugi, accolta dall'applauso del pubblico in studio e da quello metaforico dei social Sempre più innamorati di Ziamara e della sua genuinità Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto